Raimondo Todaro è nato a Catania il 19 gennaio 1987, ma ha vissuto sino a 16 anni a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, dove si era trasferita la sua famiglia. Ha iniziato a ballare a 5 anni, insieme al fratello Salvatore. Si è formato studiando con maestri di danze standard e latino-americane e durante la sua carriera ha partecipato a diverse importanti competizioni internazionali. Sul profilo Instagram di Raimondo Todaro è apparso un post dai toni molto tristi. L'ex ballerino di Ballando con le stelle ha condiviso uno scatto e un breve video in cui appare in compagnia di una bambina, che danza con lui in una stanza d'ospedale. Dalla didascalia scritta da Raimondo, si scopre che la sua speciale compagna di ballo si chiama Chiara Ciao Chiara, la saluta infatti lui. Iniziando il suo doloroso messaggio d'addio quando ho accettato il progetto del comitato verga l'ho fatto col cuore ma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi aggiunge poi Todaro. Riferendosi all'iniziativa che gli ha permesso di conoscere la bambina sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te scrive ancora rivolgendosi proprio a lei ti porterò sempre nel cuore. R.I.P. conclude infine promettendole di non dimenticarla.